. Ivana Mrazova del GFVP lascia il fidanzato, lo sfogo di allevato VinZuiden . Alessandro Allevato e Ivana Mrazova si sono lasciati. La decisione l'ha presa la terza classificata del GFVP 2017. Cancelletto Ivana Mrazova del Cancelletto Grande Fratello Vip 2017 ha lasciato il fidanzato Alessandro Allevato. . 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 Ha rivelato che la decisione di troncare la Lost Story è stata sua, sottolineando di aver maturato questa scelta durante la sua permanenza nella casa del grande fratello Vip 2, non so se è stato il distacco o quello che mi passava nella testa dentro la casa. . Durante il reality show di Canale 5, condotto dalla Star TV Ilari Blasi con Alfonso Signorini, Ivana ha preferito non affrontare questo argomento poiché non le sembrava giusto che lui soffrisse. Ha spiegato che Alessandro è un bravissimo ragazzo e anche se non l'ha presa benissimo, alla fine ha capito la sua scelta. Lo sfogo social di allevato. Alessandro allevato si è sfogato sul suo profilo Instagram dove ha condiviso un lungo post che testimonia il suo dolore e la sua sofferenza per la fine della storia d'amore con Ivana Marazzova. Ha condiviso una foto in bianco e nero, che lo ritrae in costume sugli scogli durante una giornata di sole e relax al mare, e ha scritto, Purtroppo nella vita ciò che amiamo non sempre rispecchia ciò che viviamo. E per quanto possa fare male non sporcate la vostra purezza e la vostra lealtà. Ha spiegato che alcune volte il destino è un po' crudele poiché volta le spalle e buca lo stomaco, lasciando un senso di vuoto e solitudine davvero difficile da colmare. Non abbiate mai paura di amare una persona con tutto voi stessi sino all'ultimo istante, di credere in qualcosa sino all'ultimo secondo e di fare ogni cosa possibile se pensate sia quella giusta. Ve ne andrete sapendo di aver fatto il vostro e senza rimpianti. Purtroppo nella vita ciò che amiamo non sempre rispecchia ciò che viviamo. E per quanto possa fare male non sporcate la vostra purezza e la vostra lealtà. Ne uscirete a testa alta. Solo il tempo vi guarirà dandovi le conferme di chi siete e cosa valete realmente. Per quanto ci possiate pensare, semplicemente a volte nella vita non potrete dare una spiegazione razionale alle cose. Il destino vi volterà le spalle e vi bucherà lo stomaco, lasciandovi un senso di vuoto e solitudine difficile da colmare. Solo il tempo vi darà tutte le risposte e vi guarirà. Fino ad allora non potrete fare altro che stringere i denti e andare avanti. Grazie a tutti i miei veri amici e alle persone che mi hanno realmente voluto bene in questi mesi. Luca e Ivana stanno già insieme. Finora Cancelletto Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno raccontato sia a Barbara Durso di pomeriggio 5 sia a Federica Panicucci di mattino 5 di essere grandi amici. Il feeling tra i due che è ed è lampante come documentano alcuni video e foto condivisi sui social e YouTube. La modella cieca ha ammesso a Barbara Durso che il secondo classificato del grande fratello VIP 2 è molto carino e simpatico. Tra i due cè anche molta attrazione. I due ex e fini stanno nascondendo il loro amore? Secondo alcuni fan, Ivana e Luca stanno già insieme. Resta il fatto che entrambi sono concordi su un punto, vediamo un po' che succede. La loro storia d'amore è appena sbocciata? Stai tunedo per saperne di più. La loro storia d'amore è appena sbocciata.